ecco qui ci troviamo dentro la grotta sopra la palesia sopra la petogna col gruppo sperio club ecco qui anche io sono dotato di casco e illuminano bello gabriele guarda e vedi ecco sta in rapura ameteo avanti un altro gabriele fammi ingrandire l'immagine gabriele questo è il figlio di ameteo ecco qui lui sta a osservare di là io quel buco ne ho chiesto questi quel buco che ci sta qualche cosa no non c'è niente questo è bello